Amici 3B Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica che vedrà una zona di alta pressione ancora consolidarsi sul Mediterraneo centrale, quindi tempo nel complesso bello, queste macchie azzure che vediamo sul Mediterraneo occidentale rimangono lì, quindi non sono precipitazioni che raggiungeranno l'Italia. Ci attende quindi una giornata appunto con ampie zone di sereno, lo vediamo dalla distribuzione della nuvolosità sul nostro paese, qualche nuvola lambisce la Sardegna, ma per il resto come vedete giornata splendida e anche come precipitazioni totale, assenza di precipitazioni, la Sardegna viene appunto lambita da quei sistemi nuvolosi, ma come vedete le piogge restano ben lontane dall'isola. Quindi giornata da piena primavera, punta e basta, sole protagonista da nord a sud, qualche nuvole eteri tanto in tanto, qualche velatura ma senza conseguenze e temperature in aumento, con le massime che al nord e sul medio alto tirreno toccheranno anche i 22-23 gradi all'ombra, al sole e qualcosina in più. Per chiudere vi anticipo che a metà settimana le cose cambieranno, da mercoledì finalmente dovrebbe tornare la pioggia al nord. Con questo è tutto, per i dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.